piano piano non lo so, è la pasta per le crepe in effetti l'uso della pastella non è soltanto italiano perché anche in Francia voi fate molte cose in pastella la pastella è differente non è forse fatta uguale però io ho mangiato a un come si chiama, a Mont-Saint-Michel c'è la mer-poulard ho mangiato dei bignets fatti con camembert e avevano tipo la stessa cosa non lo so se è la stessa pasta con la quale si fanno le crepe non va bene allora qual è il punto nel quale bisogna fermarsi e capire quando la pastella è pronta diciamo che la pastella per essere pronta io dico che deve scrivere c'è da dire che ancora un po' d'acqua ma non è presso che prezzo c'è da dire quando la pastella posso turnare guarnare